Secondo Martini tre sono i biotipi corporei e questi hanno delle importanti implicazioni in odontoiatria. Abbiamo appunto il biotipo ectodermico, quello mesodermico e quello endodermico e per ogni biotipo ci sono delle caratteristiche genetiche specifiche. Abbiamo caratteristiche morfologiche, caratteristiche strutturali, funzionali, metaboliche, biochimiche, neuroendocrine, psicoemozionali, differenti, così come caratteristiche differenti per quanto riguarda la crescita facciale. Il biotipo ectodermico è caratterizzato da una prevalenza di sviluppo di quelle strutture embrionali di origine ectodermica. Abbiamo in questo soggetto un deficit invece di quelle strutture di origine mesodermica. Quindi i soggetti ectodermici hanno una massa muscolare carente e una scarsa forza fisica. C'è anche un deficit di endoderma che si rivela con la prevalenza dei processi catabolici e da qui che ne consegue appunto la loro estrema magrezza, ma hanno di compenso un notevole sviluppo del sistema nervoso centrale periferico e neurovegetativo. Ne conseguirà un paziente ipersensibile con una notevole ipervigilanza occlusale, quindi anche minime modifiche dell'oplusione, anche con un'otturazione dentale, saranno subito percepite. E il peggioramento di ciò diciamo sia anche con minimi trattamenti, se vogliamo. A maggior ragione se poi il quadro psicoemozionale è alterato. Diversi sono i pazienti di questa tipologia che mi capita di dover trattare. E questi, se vogliamo, sono abbastanza complessi da gestire e anche da dover trattare, proprio perché sono ipervigilanti, recepiscono tutto e quindi molto spesso si adattano anche in maniera più difficile a eventuali modifiche dell'occlusione. E in questi soggetti è anche difficile la maturazione fisiologica della bocca, perché c'è una carenza di forza muscolare. C'è una tendenza all'acidosi metabolica che va ad irritare ulteriormente le terminazioni nervose. A livello del cranio, questi soggetti saranno tendenzialmente dei soggetti con un cranio allungato, cioè con un cranio dolicocefalo, e con una faccia allungata, cioè saranno soggetti dolicofacciali, con un palato stretto, una mandibola poco sensibile alle sollecitazioni ormonali, un ipotono muscolare, un'angologonia coaperto, e una tendenza all'open bite scheletrico, e a una crescita del piano occlusale in post della rotazione. Ci sarà anche una prevalenza delle forze interne del cavorale, cioè delle forze della lingua. Sono molto spesso questi ultimi soggetti respiratori orali, e quindi saranno colpiti da problematiche a specifici organi bersaglio, soffriranno frequentemente di adenoiditi, tintonsiniti, riduzioni del lume faringeo, apneostruttive del sonno, frequente in questo tipo di biotipo, e la malocclusione di seconda classe prima divisione. Ma è possibile comunque correggerla se si fa restabilire una masticazione congrua. Il soggetto endodermico invece ha una grossa capacità digestiva, ha un anabolismo prevalente, con conseguente trasformazione dei carboidrati in grassi, e ha una tendenza al sovrappeso e alla obesità. Le masse muscolari nel soggetto endodermico sono carenti, e abbiamo anche una lentezza nei movimenti, una minore emotività, una minore sensibilità nervosa. Prevale invece il nervo vago, quindi avremo un'ipervagotonia con soggetti tranquilli, pazienti meno esigenti e quindi più difficili da trattare, riescono a percepire meno eventuali variazioni del piano occlusale, quindi avranno una minore vigilanza occlusale. Sono dei soggetti che hanno una faccia corta, quindi saranno soggetti brachi facciali, con un torque negativo degli incisivi, un palato ampio, una mandibola poco sensibile agli ormoni, e quindi spesso iposviluppata, è un angolo goniaco, aperto. Sono soggetti anche con affollamenti dentali, molto spesso eruzioni dentali difficoltose, seconda classe, diastimi dentali, denti ruotati, crossbite e così via. Infine poi abbiamo il soggetto mesodermico, che ha appunto un equilibrio generale nello sviluppo, le ossa e i muscoli sono congrui, avrà una grande forza muscolare, un aspetto atletico e una mandibola squadrata, perché è sensibile alle celecitazioni ormonali. Sono soggetti mesofacciali, cioè che hanno una faccia né troppo lunga né troppo corta, e rispondono bene agli stimoli funzionali terapeutici, tant'è che vengono definiti, denominati da pedroplanas, come biotipi positivi. Sono soggetti molto spesso in prima classe scheletrica, e hanno un'usura dentale, molto spesso fisiologica, in alcuni casi sono soggetti bruxisti, o che tendono a fare parafunzioni. A me è capitato un caso di soggetto mesoblast, con click alla mandibola, che poi andò ad evolvere in un locking della mandibola, e quindi andai a ricercare la posizione terapeutica, attraverso il recupero spontaneo, e chiaramente in questo modo riuscii a risolvere la problematica.